La questione del batterio killer ha distolto ultimamente l'attenzione sulle condizioni di vita degli animali che alla fine ahimè finiscono nei nostri piatti. È possibile secondo voi che un pulcino in neanche 36 giorni diventi un pollo adulto? Forse grazie agli antibiotici è l'unico tipo di carne che possiamo trovare e mangiare? Scopriamolo insieme. No, direi di no, l'ideale sarebbe che ognuno potesse avere un piccolo polaio e tirarsi sui polli facendogli rispare per terra, dandogli da mangiare magari un po' di frumento che si coltiva in casa. Certo che tutto non è possibile per chi abita in appartamento non può fare una cosa del genere però l'ideale sarebbe questo. Secondo lei la carne che mangiamo è di qualità? Penso proprio di no, assolutamente, penso proprio di no. No, penso di no perché è tutto chimico, il pulcino viene sottoposto a mangiare giorno e notte perché gli mettono le luci. Secondo me non è carne di qualità, quello che possiamo fare è ritornare indietro cent'anni ma non possiamo farlo. La carne ormai è piena di antibiotici e di qualsiasi altro genere di mangimi e di ingrassanti per cui sarebbe meglio mangiarla il più limitatamente possibile ecco quindi magari sostituirla con il pesce o altre derivate oppure mangiare la carne magari del pollo olivato dal vicino o il pesce azzurro ecco cioè che contiene meno piombo quindi cercare delimitare al massimo di introdurre queste sostanze. Andrea tutti siamo consci che il trattamento intensivo per la crescita del pollame consegna ai supermercati carne non di qualità. Cosa possono fare i nostri telespettatori per avere qualcosa di più sano? Potrebbero venire tipo in posti come questo, il pollame qui è più sano, cresce nel suo ciclo naturale quindi ci vogliono 7 mesi invece dei 36 giorni di un allevamento intensivo, mangia cose più sane, naturali, viene allevato anche con vegetali quindi non è pieno di antibiotici perché comunque già mangiando vari o così o cose comunque naturali il pollo già si fa le sue difese, sviluppa la muscolatura, corre a terra, razzola e quindi invitiamo la gente a venire direttamente a prendere i prodotti che sia verdura o pollame perché comunque ha la garanzia, vede con i propri occhi anche come vengono tenuti questi animali che comunque hanno il loro spazio, vengono tenuti bene, non sono in condizioni di stress e sicuramente hanno un prodotto migliore. Bene, la scelta ora aspetta a voi, noi il consiglio ve l'abbiamo dato e ricordate che siete sotto tiro!